C'è chi respirerà C'è chi respirerà C'è chi respirerà C'è chi respirerà La pratica della felicità è subversiva quando si collettivizza La nostra volontà di felicità e di liberazione è il loro terrore E reagiscono terrorizzandoci con il carcere Quando la repressione del lavoro, della famiglia patriarcale e del sessismo non bastano più Ma allora lo dicano chiaramente Cospirare vuol dire respirare insieme Cospirare vuol dire respirare insieme E di questo siamo accusati Vogliono toglierci il respiro Perché abbiamo ricordato di respirare isolatamente Nel proprio assesciante luogo di lavoro Nel proprio rapporto individualmente familiare Nella propria casa atomizzante Un attentato confesso di averlo compiuto È l'attentato contro la separatezza della vita dal desiderio Contro il sessismo nei rapporti interindividuali Contro la riduzione della vita a prestazione salariata Cospirare vuol dire respirare insieme Ma allora lo dicano chiaramente È Dada che terrorizza i grigi, ottusi, pericolosi custodi dell'ordine dello sfruttamento Quel che è Dada ha progettato ma non ha saputo realizzare Il trasversalismo saprà farlo Abolire la separatezza di segno e vita Scatenare il soggetto significante Non più nello spazio illusorio dell'arte Ma in quello scandaloso della pratica Non più nello spazio illusorio dell'arte